Il distacco dei comuni di Monte Copiolo e Sasso Feltrio della regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. I comuni di Monte Copiolo e Sasso Feltrio passano all'Emilia-Romagna. L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al distacco dalla regione Marche e alla loro aggregazione in Emilia-Romagna con 166 voti favorevoli. I no sono stati invece 41 e gli astenuti 12. A 14 anni dal referendum del giugno 2007, in cui i cittadini dei due comuni avevano votato per il distacco, si conclude così l'iter burocratico che vedrà il passaggio. Avete votato tutti? Sì. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Quindi restano pertanto assorbiti i disegni di legge numero 720 e 959. Allora, ho a legs.